Non devi avere paura. Dio ha grandi piani per te. Questo bambino è la sua volontà. C'è una ragazza. Nell'orfanotrofio. Ha bisogno di qualcuno che si occupi di lei. Carlita soffre di una forma di pazzia. Stia molto attenta, Margaret. Accadranno cose brutte nell'orfanotrofio. Cose malvace. È soltanto per te. No, non parla. Cosa c'entra tutto questo con Carlita? La Chiesa detiene il potere da migliaia di anni. Non si fermerà dinanzi a nulla perché resti così. Come si controllano coloro che non credono più? Si crea qualcosa di cui avere paura. Credo che la ragazza sia la madre. La madre di chi? È il marchio del diavolo. Sei, sei, sei. Sei, sei, sei. Sei, sei, sei. Non è reale. Non è reale. Non è reale. Non è reale. Cosa non è reale? C'è parlato. Questo è molto reale. Cosa non è reale. Cosa non è reale? Grazie a tutti